Sono 30 anni che sono impegnato nel mondo del volontariato, dell'associazionismo, sono il responsabile per quanto riguarda la protezione civile, sono stato responsabile per quanto riguarda l'ambiente con le guardie con ragioni volontarie, mi sono sempre impegnato perché l'ambiente fosse il meno deturbato possibile, perché si portasse la formazione ad un livello tale che tutti potessero essere in condizione di poter raffluire. Da quando mi occupo di protezione civile sono stato impegnato dappertutto, in tutte le emergenze che sono state in Italia, i terremoti dell'Abruzzo, i terremoti dell'Emilia, gli eventi alluvionali che hanno colpito Spezia e le 5 terre del 2011 e come sempre ho cercato di dare il massimo del mio impegno, sempre da un punto di vista di volontario.